Carmelo Catania, numero 10, numero 17, 1949. Numero 10, con battipenna in celluloide, Arc Top, classica cugina per sostenere lo strumento. Numero 17, con il battipenna, conforme alle indicazioni di Giovanni Catania, figlio di Carmelo, che noi ringraziamo tanto per l'amicizia, disponibilità e perizia. E con esempio di sonorica. E con il battipenna in celluloide, un battipenna in celluloide, un battipenna in celluloide,